salve a tutti youtubers e ben ritrovati sui miei mani sono Svammari e oggi ragazzi come vedete dai vostri schemi andiamo a giocare Clash Royale ragazzi ok la cominciamo subito la cominciamo insieme e per me questo è un gioco nuovo non l'ho mai giocato ho visto che siete in tanti che ha giocato questo gioco ho detto vabbè la provo pure io e la proviamo insieme la cominciamo più che altro va bene ragazzi detto questo avanti col gioco e andiamo avanti benvenuto a Clash Royale ragazzi che devo fa' oh sfidante ok famo qualche allenamento distrugge distrugge le fattori namiche no vabbè vedevo qua come oh 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 lì quindi questo è il porto là e questo che fa il porto là e questo è un divertimento ragazzi è una cosa per cambiare no è quello che vuole da me vuole 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 questo qua spaffa io perché non so penso di aver capito come si fa e questo può farlo da avricciare la bomba non so così oh Oh! Un pozzo! Un pozzo! Fatto! Maestro Danto! Adesso il Clank! Baule di legno! Ma che vuol dire? Baule di legno, ok, va bene, mi confessa 5 monetine e... vabbè, andiamo avanti, che ne so! Grazie a tutti! Toca bez blokani, dodici! Kam pote provati? più 12 monetine, mio oro, ok, ok, tre c'è, ok va bene, avete ricevuto queste? va bene, adesso che dobbiamo fare qui, che madonna è qui? quindi, aumentiamo il livello qui, migliora, miglioriamo, fa 5, questo è arrivato al livello 2, ok, fa più danni, ho capito, danni al secondo, punti, ok, va bene, e possiamo anche al livello questo, no, invece deve andare qui, battaglia, ok, dai, proviamo ragazzi, proviamo un altro livello la mia elixir è questo ma dai che cosa è elixir? ok, il elixir inizia dai, vediamo un po' come me la cavo, da solo quindi adesso dovrebbe essere più forte questo, no? direi, poi, poi... Ah no, 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 no! Madonna, bo! Fattore! No, se l'apro subito mi prende una gemma, no, 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 mi dispiace, però, aspetto, eh, disponibile, moschettiere, ok, va bene, andiamo qui, ai miglioramenti, questo lo miglioriamo, migliora subito, ok, per 5 minuti, ok, bravo, 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 fatto, una copertà, va bene, più danni al secondo, che velocità colpi, va bene, prossimo 20, proviamo pure questa, migliorarla, su, via, perfetto, ragazzi, sono le carte, no, 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 che è uscito, ancora no, ok, fammo un'altra battaglia, oh, ma vabbè, ma è sempre questa? Oh, 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 oh E questo è il campo di prova, no? Fa questo attrezzamento per sbloccare battaglie il mio multigiocatore, ah beh, quindi, prova finale, eh, ho capito, quindi, togliamo qua. Aspettiamo. Va. Va bene, miglioriamo, questo. Qui c'è, negozio, sblocca, vabbè, vabbè, chi è, qui è il 3d set, ok, vabbè, continuiamo. Ah, allora, vediamo. Alla, vediamo. Ahahahah! No. No, no. Posta l'istima! Come in cio e serve a deficiare... Ehi lo prendo. No, no. No, no. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Sì, non lo so. C'è una volta No, apri subito, ma che fu, no, no, aspettiamo, pazienza Strega, non l'ho fatto in tempo a vedere, eccolo, questo che è? Ok, andiamo a vedere qua, questo, nuovo, info, migliora, va, un 50, ammazza Questo, nuovo, migliora, un 50, vabbè Usiamo questo, come no? Ah, al posto di chi? No, perché? Strega Nel 5 Verbo Al posto di questo, dai, su No Battaglia Ragazzi, andiamo a battaglia subito Quindi, comincio a capire un po' come funziona Allora, ce l'ho pure questa adesso, eh, adesso vediamo un po', cominciamo subito Due minuti ce l'abbiamo il tempo, ragazzi Questo, vediamo un po' Ronde? Ehm, lo, 59, 05 Ehm, lo, 60, 05 Ehm, lo, 60, 05 Ehm, lo, 30, 05 Ehm, lo, 60, 06 Noi, 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 noi. Pronti, via! Forza! Nonno, noi, noi. Noi, noi, noi. Noi, noi, noi. Noi, noi. Wow! Oho! 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 Muito tempo, ragazzi. Come on! Ok, va bene. bene bene guardi anche un sacco eh, questo gioco uuuuuh, scegli un nome è ovvio no? da svarmarino ok progressi, spero che va tra il multicepatore, ok ragazzi aspettiamo sempre 15 secondi 165 miglioramento? sì, sì, bene 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 meglio, meglio allora è meglio quindi andiamo solo un po' miglioriamo questo per 50 ehm, adesso questa non è nulla qui, ah, qui questi dopo li sbloccamo mano a mano, è vero? madonna quanti sono cattivi questi vabbè, vabbè andiamo, infammo un'altra la prova finale può basta messa per oggi qui 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 l'amore Grazie a tutti. Abbiamo fatto pure la prova finale. Che baule ragazzi. Baule d'argento. Bene bene. Va bene, va bene, va bene. Quindi, oh, 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 comincerà a essere difficile, ma sai. Quindi, carte sbloccate, questo. Campo di prova. Allora, sfera, livello 1. Quindi, questo sarebbe il secondo livello, no? Hai raggiunto. Stadio Goblin. Stadio Goblin. Ok, va bene. Vabbè, quindi, comunque, continuiamo dopo, ragazzi, col prossimo episodio. Vi saluto e ricordatevi, no? Mettetevi dei commenti. E ciao. E buon anno, ragazzi. Mi raccomando. Ciao.